Abbiamo chiesto di relatare la notizia di 30 settimane passate, ora con il governo di Aruba e il Cidco ha firmato un accordo, lo chiamato di Heads of Agreement, per procedere al accordo final per la riapertura della riferimento di Aruba. Abbiamo chiesto di noi, abbiamo ricevuto una grande notizia con felicità, mi chiedo che è stata una grande notizia, lo che ho chiesto di un anno, il Comitato sta chiedendo all'interno di un pollo per avere esperanza grande e per avere una grande notizia, ci sono ricevuto una grande notizia e ci sono ricevuto un anno passate, ora con finalmente il Cidco e il governo di Aruba ha firmato un accordo. Tambi mi chiede a risaltare che è pieno di felicità per avere il accordo final, per esempio il accordo, qui voglio firmare esattamente gli ingredienti che non conosco di una nostra declarazione, in particolarmente a mia persona, nel Juni, nella rueda di prensa, se mi noterà il 15 di Juni, a me ha dato una declarazione dopo il mio regresso di Venezuela, di una riunione con la PDVSA, per la cosa che tratta e forma con la nostra mira che la riferimento di Aruba mi chiede a aprire. E lo che per noi è importante, è se io mi chiede a avere un fattore determinante, con tuo respeto, come se il governo vuole riconoscere, per noi non è relevante, per noi è importante, perché è la visione che noi presentiamo e come annunciare le rei di prensa, le rei di prensa in particolare, le rei di prensa in particolare, i Bota Jairi, su YouTube del 15 di Juni, con una realtà, il grande interesse di PDVSA di un partner di governo di Aruba, di Aruba, di una rifineria di Aruba, una cosa che ha annunciato, è il interesse per non creerare la rifineria di Aruba a base di gas, for di unica, abbiamo qui, che abbiamo annunciato, anche lo che è importante con la nostra idea, è che la forma come per capire, usando il modello di corso, una cosa che la rifineria di Aruba, è traspasare fuori per il governo di Aruba, e ora, in caso, di un'envei di gobierno, il tempo di un'indeclarazione, io ho usato due numeri, rifineria di Aruba a Envei, o rifineria di Pueblo a Envei, ma comprende che non ho usato un di un nome, e anche, e anche, con valere la traspasazione della propietà, per il governo di Aruba, il governo di Envei, e il governo di Hür, lì, le due parole, che ho usato in particolare, il 15 di Juni, che passa, è che il Hür, lì, che il PDVSA, è il PDVSA, ora che l'abbiamo a SIGGO, con il suo filiale, passiamo, e se viene la formula, con la rifineria di Aruba a Envei. Mi chiede, con una nota di declarazione, di un'indeclarazione, con un po' di mesi, mi chiede, mi chiede, con noi, che il pubblico usa, il tema di Roberto Rincon, per difamare il governo, mi chiede, che non c'è interesse, di difamare il governo, l'unico che può difamare il governo, è il suo proprio accionamento, lo che sì, mi chiede, è che ci deve questionare, è che il governo di Aruba, usa il Roberto Rincon, come intermediario, mentre con noi mesi, come parlamentari, di oposizione, portano un contatto diretto, e ria direttamente, contatto con PDVSA, mi chiede, che il governo di Aruba, non c'è nulla di rasi, di usare il intermediario, principalmente, di profil, di Roberto Rincon, il governo non c'è necessità, di buscare il intermediario, per arrivare il comitato sicuro, così il governo, ha ria direttamente, con il governo, e non lo ha ria contatto, contacto direttamente con SIGO, in modo che la mia persona, ha ria contatto direttamente, con PDVSA.